Musica Bentornati, piazza politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità. Torniamo ad approfondire la politica, si sono tenuti quattro importanti consigli comunali, è stato approvato il bilancio programmatico e senza ombra di dubbio le polemiche non sono mancate e anche qualcosa di scenico, di molto forte, di emotivamente forte con una manifestazione, io ritengo una manifestazione mediatica che è anche un po' deriso il comportamento del sindaco in seno al consiglio comunale ma anche per l'attività pubblica amministrativa. Lo dico un po' spiritosamente ma sappiamo di solito quando si fa ironia si dice anche la verità, tanta verità, vero? Oronzo Castellano è l'ospite di quest'oggi, l'avvocato Oronzo Castellano, consigliere comunale, in seno al consiglio comunale per il centro-sinistra, punto di riferimento dell'Udc. Le polemiche non sono mancate. Certo Alessio. Come consuetudine ormai. Ma non come consuetudine perché quando ci vuole, ci vuole. Noi le polemiche le facciamo a seguito di un approfondito studio, di approfondite valutazioni che ci permettono e ci consentono di andare giusto a mirare quelle che sono le nostre idee e soprattutto il nostro disappunto per l'operato di questa maggioranza. Permettimi però di portare le scuse, i saluti a nome dell'ingegner Marvolli, il nostro segretario, il nostro nuovo segretario dell'Udc, che hai gentilmente invitato insieme a me per questa intervista, ma che purtroppo a causa di impegni professionali non è potuto essere. Lo faremo nel corso della settimana. Ti ringrazio Alessio, lui sarà certamente ben disponibile e contento di venire a portare il suo saluto. Come è ormai tradizione dell'Udc. Ha fatto scuola l'ingegner Vito Casiello. La scuola di Vito Casiello è la scuola della gente che sta per strada, di quelli che ascoltano, di quelli che fanno la nuova politica. E della tanta educazione a differenza di qualche politico che lascia molto a desiderare. Non a caso ogni riferimento è puramente casuale. Fortemente casuale. Fortemente casuale. Alcune volte è merce rara l'educazione, ma noi apparteniamo sempre a quelli che anche le cose più crudele, vogliamo dire, con un certo garbo, con una certa educazione. Non riteniamo che alzare la voce sia di per sé sintomatico, di forza, ma noi facciamo della volontà, dello studio, della concretezza, dell'ascolto dei cittadini e quindi anche nell'assermazione in maniera educata il nostro modo di essere. Però ecco, devo dire, questa è una sorpresa, lo dico, non te lo saresti assolutamente aspettato, ma io lo devo dire a chi ci guarda, a chi ci ascolta, avete trascorso intere notate a consultare, ad approfondire, a preparare, a modificare, a suggerire con emendamenti il bilancio programmatico. È vero? Certo Alessio. Alessio, purtroppo noi svolgiamo altre professioni, la maggior parte insomma dei consiglieri di opposizione, soprattutto dei consiglieri con cui abbiamo condiviso questo importante percorso di studio. E mi riferisco ai consiglieri del PD, Gino Lo Iudice, Antonio Cappello e Antonello Stigliano, così come la collega Raffaella Petronelli e il sottoscritto. Non ci siamo risparmiati, mettendo da parte le nostre professioni, mettendo da parte le nostre famiglie, abbiamo, ci siamo riuniti, ci siamo confrontati, abbiamo studiato, l'abbiamo fatto fino a tardanotte, l'abbiamo fatto domenica, sottraendo tempo e energia alle cose. Nonostante l'intransigenza degli amministratori, del sindaco forte, cozzare contro un muro, e voi invece avete voluto comunque dialogare. Abbiamo innanzitutto risposto con la competenza, con lo studio e soprattutto proponendo degli emendamenti che sono stati in grande parte anche accolti, che hanno ricevuto il parere favorevole dei relativi uffici di competenza e che fanno di questo sacrificio, di questo approfondimento, motivo di grande soddisfazione. Perché? Perché il lavoro fatto per bene, fatto per compassione, quando uno si mette a servizio della propria città e non ha nulla da chiedere perché, cari concittadini, ognuno di noi svolge delle professioni e anche abbastanza onorate. Però abbiamo deciso di metterci a servizio della città e quindi questo non è che una semplice conseguenza della nostra... Non è poco. Non è poco, non è... Visto il clima che si respira all'interno della politica, non solo locale, ma anche nazionale, io ritengo. Ma Alessio, questo deriva al di là dallo spirito di servizio e di sacrificio, anche da una forma di volontà di apprendere, di conoscere, non a caso quando... E anche di rispetto nei confronti degli elettori. Esatto, perché loro ci dicono di portare in consiglio le loro istanze, le loro problematiche e noi abbiamo il dovere di tradurle in quelle che sono atti concreti, motivati, approfonditi e certamente che non derivano per caso, ma sono frutto appunto di uno studio ben preciso, di uno studio che comporta sacrificio, Alessio. perché le cose non vengono, non vengono, gli interventi che noi prepariamo, che studiamo, che noi portiamo in consiglio comunale derivano proprio da questo, perché noi dobbiamo essere credibili e soprattutto dobbiamo essere noi a credere nelle cose che stiamo dicendo. Ecco Ronzo, cosa ci racconta, cosa ci spiega questo bilancio, come si muove l'amministrazione comunale? Alessio, è stato un po' il motivo principale di questi giorni. Mi dispiace ancora ripeterlo, ma è il mio dovere farlo. Uno e principalmente è quello del passaggio a regime di un'imposizione fiscale tra le più alte probabilmente in Italia. Questo in contraposizione alle promesse fatte in campagna elettorale. Ma anche alla crisi economica che viviamo. Alla crisi economica in cui vivono molte famiglie. Perché al di là di quelli che possono essere stati gli aumenti, seppur confermati da questa amministrazione, perché non dimentichiamo, perché lo scorso anno l'aumento delle tasse, in particolare su quelle sui rifiuti, era stata attribuita al commissario. Oggi che loro potevano dare un segnale, potevano discostarsi, perché loro sostenevano che quello che aveva fatto il commissario era intoccabile, abbiamo visto che a distanza di un anno non è servito perché hanno confermato quelle tariffe, anzi le hanno ulteriormente aumentate, così come quelle sull'IRPEF. Perché non dimentichiamo che lo 0.8 è uno dei punti percentuali, o meglio una percentuale tra le più alte, più di quella insomma non si può. E questo dispiace, dispiace perché i nostri cari concittadini, quando dovranno prestarsi a pagare le tasse, si renderanno conto di questo. Ma Alessio, io ci ho tenuto nell'intervento conclusivo di oggi a sostenere questo aspetto. E sarebbe a dire, al di là della imposizione fiscale, quello che più dispiace a chi come me, come te, paga le tasse, è il risvolto della medaglia che manca. Sarebbe a dire, noi paghiamo tasse per non avere servizi. E' inutile dire la famosa questione delle buste. Noi paghiamo delle tariffe sull'immondizia, però non abbiamo di contro un servizio idoneo. I nostri cassonetti sono sempre stracolmi di immondizia. Le buste non sono mai disponibili a punto tale che si è costretti ad andarle a recuperare. Così come tutto quello che noi andiamo a versare come imposte e contributi, non trova un eco-ricambio in quello che è il decoro della nostra città, nella riqualificazione delle nostre periferie, in sostegno a quelle che sono le classi più disagiate. E questo non da politico, se mi posso freggiare di questo titolo, ma da semplice cittadino e mortificante. Sì, ecco, Oronzo, per quello che è accaduto all'interno del Consiglio Comunale, proseguono, continuano le polemiche. Ancora un'attività di maleducazione, tra virgolette. Questa volta a farne le spese è stato il consigliere Pietro Masi. Se la poteva risparmiare, anche se oggi ha avuto il nostro sindaco il buon gusto di chiedere scusa al consigliere Masi, a cui tutto magari si potrebbe riproverare, tranne che quello di fare politica per la gente. In politica si può anche sbagliare. Si può sbagliare un intervento, ma non si può essere offesi. Non si può sentire dire del cretino, così come non si può sentire dire della capra. Noi riteniamo che questo probabilmente deriva da un'incertezza, da un'insicurezza. E quando si va a colpire il nervo scoperto, probabilmente questo ti porta anche ad avere delle esternazioni offensive. Così come quelle, non possiamo dimenticare, magari fatta con un certo piglio nei confronti del sacerdote del quartiere Trentacapilli. Perché questo è inaccettabile. La dichiarazione su Don Nunzio è inquietante, anche perché Don Nunzio ha sempre dimostrato, anche con la stessa coria, di mettersi a disposizione della collettività, dando gratuitamente i locali, facendoli usare da tutti e coloro che necessitano di un asilo nel quartiere più grande della nostra città, Trentacapilli, che vanta 7.000 abitanti. Non è bello questo, non è normale, anche perché non vi era un interesse nascosto dietro. Semplicemente una discussione che ha fatto un po' alzaritoni neanche rivendicare il diritto di dare ancora per un anno la disponibilità a utilizzare i locali gratuitamente. Poi d'altronde, ecco, voglio dire, perché polemizzare? Gratuitamente. Adesso costringere i bambini a fare i pendolari, come anche i genitori, non è normale questo, è anche rischioso per gli stessi bambini. E a proposito di servizi, ne parlavamo prima. E questo fa parte un po' di quello che dispiace della politica, cioè quelle che sono le promesse fatte in campagna elettorale che poi non trovano un riscontro nell'attività quotidiana. Noi questo non lo tolleriamo. E' di tutta evidenza la buona opera, il buon lavoro fatto dal parroco della chiesa redentore a Trentacapilli, Don Nunzio. E certamente non si può accettare, quando qualcuno ha avuto modo di dire, in particolare il sindaco, che Don Nunzio, un prete, non può fare politica. Non devo ricordare, ma lo faccio a me stesso, che sono stati tanti i sacerdoti che hanno fatto politica. E benvengano. Se questo modo di fare politica serve a tutelare i cittadini, serve a tutelare quelle classi, un intero quartiere, vada bene Alessio, perché quello della scuola è un problema serio. Perché Trentacapilli, un quartiere di nuova costruzione, che non ha ancora una scuola, proprio magari dove è là, proprio perché ci abitano delle giovani famiglie, che hanno necessità di portare i bambini a scuola, meritava e merita più attenzione. Io ho detto che al di là, oggi ho sentito in consiglio la voce di un autorevole, consigliere di maggioranza, che ha definito, lanciato un anatema. Ma almeno credo che è stato sincero. Lui ha dichiarato in maniera molto schietta, non so se è fatto in maniera consapevole, che lì la scuola non ci sarà mai. Al di là di quelle che possono essere le problematiche, le scarse risorse, è un problema che va risolto. Certamente non si può niscondere. Oronzo, scusa, ma Trentacapilli è stato il punto di riferimento della battaglia elettorale per vincere la guerra, e farsi eleggere, proprio con queste e su queste tematiche. Si rimangia il tutto il sindaco forte? Ma il sindaco non si rimangia, glielo ha ricordato il consigliere che ha parlato. Perché al di là di quelle che sono le belle frasi, cioè quello che è magari l'idea di affidare la costruzione di una scuola a un privato, ha un non so che di logico, perché oggi come oggi, l'ho ricordato anche all'interno della Sise consigliare, non c'è un imprenditore in grado di poter svolgere quel servizio, soprattutto perché un imprenditore non può ragionare in maniera altruistica. Un imprenditore deve far reddito. Quindi a me dispiace constatare, prendere atto dalla stessa maggioranza, cari concittadini, che ha la scuola, nel quartiere Trentacapilli, per adesso, e chissà per quanto tempo, la scuola non la vedremo. Ma Alessio, io ho solicitato l'amministrazione comunque a individuare delle soluzioni di emergenza. Al di là di quella che è l'idoneità o la messa in sicurezza dei locali offerti da Don Nunzio, certo si è che vanno date delle risposte ai nostri concittadini. Non si può andare in quei quartieri soltanto a prendere voti alla campagna elettorale, promettendo Mario Monti, perché questo noi non l'abbiamo fatto. Loro sì, hanno preso degli impegni, hanno garantito che avrebbero risolto quella come tante altre situazioni, senza dimenticare le problematiche, senza dimenticare quelle che sono la scarsità di risorse, di finanze pubbliche, però loro l'hanno promesso e ora hanno il dovere di dare una risposta a tutta quella gente. Oronzo, una piccola parentesi, apriamo e poi la chiudiamo. Sei stato il fautore di quella brillantissima iniziativa, molto divertente anche, ma io ritengo qualificante per la nostra città, ospitare Buddy, Boss. Inquietante il fatto del Boss, perché spiritosamente si poteva anche pensare ad altro spiritosamente, ma è stato anche un bel momento, ma il merito è tuo, non del sindaco o della maggioranza. È vero questo? Adesso, certo. Il termine Boss, insomma, lui lo adotta in America, senza magari conoscere o meglio... Non ho conto, forse in America che cosa significa in realtà Boss. E di che effetto possa avere dalle nostre parti. Il merito è mio, ma soprattutto dei parenti del dibattito di Balastro, in particolare di Mario Pestrichella che mi ha chiesto insieme a lui di organizzare questa importante visita di un personaggio che è di fama mondiale. Personaggio che va in onda su centinaia di trasmissioni di relativi stati, che ha ormai una popolarità mondiale. Al di là delle critiche sterili di cui sono state fatte in questi giorni, devo essere sincero, sono poche. Io credo che questo può essere un valore aggiunto. Ma dico questo perché io partengo alla categoria di quelli che orgogliosamente e sinceramente contento quando un altamurano, un proprio conterraneo ha delle soddisfazioni così importanti. Perché è motivo di vanto per la mia città, perché può essere l'occasione per la quale la mia città, la mia meravigliosa città... Anche riconoscere le proprie origini come quelle appunto del baddi famoso a livello mondiale. scoprire le proprie origini. Se quello che è ha ribadito ed è stato anche sollecitato è merito anche delle sue origini. È merito di quella forza lavorativa, di quella caparbietà, di quell'orgoglio che ci contraddistingue cari concittadini. Perché i risultati, i successi non piovono dal cielo. Vanno costruiti con duro sacrificio e loro ne sono l'esempio. Sono l'esempio del cosiddetto sogno americano. una famiglia che parte lì con tante difficoltà mi raccontava che addirittura c'era quella grande tristezza e malinconia quando non si poteva ritornare indietro per riprendere la famiglia ma è stato aiutato dai concittadini. Quindi immagino la tristezza lacerante per chi ha dovuto abbandonare le proprie tradizioni. Il lavoro però, l'impegno fatto in maniera costante, in maniera seria ha fatto di Buddy un grande personaggio di fama mondiale e di lui posso garantire orgoglioso delle proprie tradizioni anche perché di Altamura ha la parte non voglio dire più importante del suo cuore ma certamente quella più romantica perché di Altamura ha la propria mamma e quindi lascio immaginare ad ognuno dei nostri telespettatori che cosa possa voler dire per lui e avere ed essere orgoglioso insomma delle proprie origini. Ecco Oronzo stavo cercando un questionario che l'amministrazione comunale sta facendo girare non solo sul sito del comune ma anche su facebook dove si chiedono consigli ai cittadini come recuperare Piazza Santa Teresa io mi chiedo ti chiedo ma il ruolo dei dirigenti quale dovrebbe essere e poi ancora dopo tutte le polemiche si continua a perseverare sull'incapacità di sapere e voler agire su tutte e due le piazze Piazza Castello e Piazza Santa Teresa sì Alessio non hanno le idee chiare oggi l'ha ribadito il sindaco attende progetti da parte di giovani professionisti giovani 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 idee ma ma lo si chiede anche ai singoli concittadini e cosa potrebbe mai dire un altamurano pur sapendo quello che sta accadendo l'utilizzo di una piazza è quella la si deve solo abbellire renderla fruibile renderla fruibile utilizzabile di risolvere in maniera definitiva la questione degli ambulanti perché non si può sbalottarli da una parte all'altra sia nel loro interesse ma nell'interesse anche di tutti quei concittadini che vanno lì a fare la spesa guarda Alessio questo mi sembra un ulteriore spot quello dell'amministrazione nel ricercare fuori dei progetti delle iniziative da parte di singoli concittadini questa è una responsabilità che deve essere presa da noi amministratori voglio includermi anche io in questa definizione che deve avere il coraggio che ha le competenze perché non è di facile risoluzione là ci sono dei vincoli ben precisi c'è la sovraintendenza a differenza del singolo cittadino che ovviamente non conosce né le leggi né le regole e potrebbe dare quindi una visione molto parziale non definitiva di quella che è una soluzione ci auspichiamo conclusiva in riferimento insomma alle due piazze Alessio ecco Ronzo per Cava Pontrelli si parlava di un ritorno alla celerità si stringevano i tempi si pavoneggiava già l'acquisto e l'usufruzione di Cava Pontrelli ma in realtà non si è saputo più nulla che sta accadendo Permettimi di dire Alessio io se non ricordo male ho sentito che Cava Pontrelli sarebbe stato dato da Altamurani dopo 20 giorni dalle elezioni appunto lo ha detto proprio qui di fronte a queste telecamere al microfono che io praticamente gli ho girato al sindaco ora io non so se lui ha volutamente dimenticato che c'è la burocrazia che è ritornata ad essere una scusante o meglio una giustificazione oggi sappiamo che ormai è stato offerto alla proprietaria che dovrebbe sottoscrivere in mani natale da approntare l'atto definitivo per la cessione di Cava Pontrelli la somma di 696.483 euro più IVA oltre oneri quindi insomma perché se non ricordo male super abbondantemente i 700.000 euro ma non voglio non dobbiamo rientrare in una polemica già fatta rispetto al valore no 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 a noi interessa l'utilizzo ora dobbiamo parlare di quello il recupero la progettualità perché non se ne parla perché perché la progettualità ora diventa la questione più importante come valorizzare questo sito che progetto va presentato in quale maniera questa importante risorsa per la nostra comunità deve essere valorizzata riferiva il sindaco che in ogni incontro o meglio in una breve chiacchierata avuto con Renzi in occasione della sua visita a Bari ha chiesto ha chiesto un progetto ora per loro inizia la sfida non hanno più scuse probabilmente procederemo all'acquisto di Cava Pontrelli in tempi brevi nonostante sia passato ormai circa un anno dai famosi 20 giorni ora non hanno più scuse ora dobbiamo vedere che cosa sono in grado di fare per Cava Pontrelli come sono in grado di valorizzarlo che progetto mettere su per rendere questo sito di fama mondiale perché così lo definiamo Oronzo tu ritieni che con questa somma i dirigenti potranno firmare o dovranno firmare dovranno firmare non lo so potranno io il condizionale glielo aggiungerei senza ombra di dubbio perché è un po' rischioso visto i precedenti si rischia come sempre un pesantissimo contenzioso e risarcimento danni anche io andrei in una certa cautela ma lì la responsabilità in quel caso è personale noi all'epoca abbiamo votato contro anche per questo timore ma non voglio incalzare questo su quella che può essere una probabile responsabilità anche dinnanzi alla Corte dei Conti perché non spetta a me giudicarla io guardo i fatti e soprattutto voglio che le parole vengano riscontrate a quelli che sono i proclami le promesse gli spot deve essere data concretezza ora Cava Pontrelli se diverrà come il mio auspicio è quello diventerà patrimonio Cava Pontrelli l'area circostante Cava Pontrelli questo non va dimenticato l'impegno e la sfida di metterla subito a servizio del mondo impegnarsi con professionalità individuando quelli che sono dei progetti utili che possano valorizzare quel sito altrimenti anziché fare un passo in avanti ne abbiamo fatti due indietro perché avremo soltanto provocato un ennesimo sborso economico a danno di noi con cittadini e quello che invece è stato promesso potrebbe rimanere lettera morta il mio auspicio il mio invito al sindaco è di fare l'impossibile ora non può più perdere tempo ora non può più affidarsi a delle promesse deve agire deve mettere su un progetto importante ecco a proposito e questa amministrazione per rendere la città una città turistica e dal punto di vista della credibilità ad altissimo livello sta facendo il necessario sta producendo il massimo sforzo sta crescendo turisticamente parlando per ora io credo che si viva ancora sull'onda di quelle che sono state delle piccole iniziative ma soprattutto sull'onda di quello che è un valore intrinseco della nostra città polemica di qualche giorno fa anche in occasione della nostra importante amata festa di Federicus circa i problemi legati alla recettività allo sportello per l'accoglimento del turista però permettimi Oronzo io ne ho parlato in radio proprio ieri ho letto un comunicato amaro di grande sofferenza quello sfornato diffuso da ripuliamoci l'associazione che più volte è andato a pulire o a ripulire il pulo le mura megalitiche e ha pubblicamente dichiarato l'associazione che nessun politico istituzionale di questa amministrazione sia affacciato ai tavoli dove praticamente si sollecitava la città ad usufruire di un'attività maggiore per la raccolta differenziata non un solo amministratore si è presentato guarda Alessio questa è una cosa per me di grande dispiacere non vuole essere una giustificazione ma come forza di opposizione non ho la stessa visibilità o meglio la stessa il riferimento era proprio agli assessori al sindaco ma guarda Alessio un riferimento preciso ognuno di noi fa l'esame di coscienza con i propri errori probabilmente è una cosa che anzi invito questa associazione questi ragazzi perché ho visto in opera con un entusiasmo incredibile con una voglia di mettersi a disposizione della nostra collettività anche a confrontarsi con noi siamo disponibili siamo aperti siamo volenterosi ad operare con qualsiasi forma di associazione che voglia portare per l'interesse della città dicevo prima non vuole essere una scusante ma certamente una giustificazione che chi si interloquisce prima certamente non è con il consigliere di opposizione ma con chi amministra la città ma questo non vuole farmi andare senza la colpa rinnovo a loro come a chiunque voglia portare le proprie istanze all'interno del consiglio comunale all'interno della casa comunale a prendere contatti con la segretaria del mio partito con me stesso così come con tutte le forze di opposizione allora ci fermiamo qui qualcos'altro da aggiungere l'invito l'invito a pensare davvero alle reali problematiche di Altamura alla situazione di grande criticità di degrado in cui verse il nostro centro storico perché tutte le promesse non rimangano lettera morta non è possibile assistere ancora a scene di violenza come quella relativa magari allo sradicamento di una rastrelliera per biciclette a quella che è un senso di insicurezza da parte di noi ma servono anche più controlli servono più controlli la presenza è fondamentale come deterrente ma oltre quello serve veramente la volontà di approcciarsi faccio l'esempio stupido perché è quello che mi ha rinnovato oggi un nostro concittadino a proposito dei cani randaggi per l'ennesima volta mi rimanda le fotografie di questi cassonetti assaliti da questi branchi di cani bene adesso questa è come la questione delle pensine degli anziani ci sono delle cose che è difficile fare in politica non lo metto in dubbio ma ce ne sono degli altri che con un po' di buona volontà certamente possono dare sollivo ai nostri concittadini sottoscrivo allora ci fermiamo qui grazie immensamente grazie all'avvocato Ronzo Castellano consigliere comunale dell'Udc piazza politica torna domani alla stessa ora non mancate grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti